Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Aria umida e instabile atlantica sta fluendo nel Mediterraneo, sta dando vita a una depressione con centro barico nel Tirreno, profondo sino a 994 millibar. Questa depressione porterà ancora piogge diffuse e temporali nel corso di questo venerdì 22 aprile, soprattutto al nord-est e sul meteo basso Tirreno. In Abruzzo si prospetta una giornata molto perturbata con nubi diffuse e precipitazioni a tratti abbondanti. Non escludiamo anche dei temporali o delle piogge a carattere di nubifragio sui settori a sud, quindi sull'Apenino, sull'Aquilano meridionale, anche localmente nel Vastese, a tratti nel Pescarese. Ma man mano che ci spostiamo verso nord avremo comunque fenomeni via via più disorganizzati e più deboli. Entro sera avremo un graduale miglioramento del tempo. La ventilazione ancora sostenuta dai quadranti meridionali diverrà variabile dal tardo pomeriggio. Temperature grossomodo stazionari, un leggero calo, massime non oltre i 16 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.